Questo video è realizzato in collaborazione con la pagina Facebook Serie TV & Soap di cui trovate il link in descrizione. Terra Amara. Anticipazioni di domenica 24 marzo 2024. Akan è seduto nella sua macchina, osservando Kadir fermare un autobus di ciolac colmo di passeggeri. Con gesti decisi, Kadir sale a bordo, e comunica loro che Akan Gumuzoglu organizzerà un viaggio per loro su un nuovo autobus. Rimborserà i biglietti, fornirà la spesa, e li farà trasferire su un autobus pronto a partire. Poi, Kadir si avvicina a Akan, e insieme osservano i loro uomini dare fuoco al vecchio autobus di ciolac. Nel frattempo, ciolac discute con va-up dei suoi piani futuri nel settore del cotone, una volta eliminato Fikret. Ma proprio in quel momento arriva l'autista dell'autobus, per informarlo che Akan Gumuzoglu ha incendiato il suo mezzo. Egli ha mandato un messaggio, sfidandolo a cacciarlo da Ciocurova. Ciolac, furioso, giura vendetta contro di lui e chiunque lo abbia aiutato. Intanto, in paese, viene annunciato che Zuleia Yaman offre gratuitamente la visione di un film presso il cinema locale, invitando tutti i cittadini. L'iniziativa suscita grande entusiasmo in tutta la comunità. Persino Betul, Shermin, e le loro amiche, sentono l'annuncio e malignano che Zuleia lo faccia per recuperare credibilità, ma dubitano che possa mai competere con l'eleganza di un car. Così, tutte decidono di andare al cinema per vederla di persona. Allora stabilita, la gente comincia ad affluire al cinema. Betul, Shermin, e le loro amiche, si siedono in prima fila, continuando a mormorare su Zuleia, e approfittando del cibo offerto gratuitamente. Poco dopo, Zuleia arriva con Lutfie, Fikret e Cetin. Appena si siedono, le luci si spengono e la proiezione inizia. Tuttavia, anziché il film annunciato, viene trasmessa la conversazione avvenuta tra Zuleia e Betul. Shermin e Betul, sconvolte, escono dalla sala sotto gli sguardi e gli insulti dei presenti. Zuleia, a questo punto, affronta la folla spiegando di essere stata vittima della propria misericordia e buona volontà, e ringrazia i cittadini per essere intervenuti. In risposta, la folla applaude e la loda. Tornate a casa, Betul, furibonda, si sfoga con Shermin, lamentandosi di essere stata umiliata davanti a tutta ciocurova da Zuleia. Shermin la rimprovera per la sua stupidità, sottolineando come Zuleia abbia agito con astuzia, e afferma che Betul avrebbe dovuto essere più sospettosa, invece di confessare tutto così facilmente. Nel mentre, Zuleia torna a casa, e Lutfi e le dice che ha fatto bene ad invitare tutti al cinema per dimostrare chi fosse davvero Betul. Zuleia spiega che non aveva altra scelta per fermarla, e per farlo l'aveva attirata in una conversazione registrata segretamente da Fikret, che aveva posizionato una telecamera nascosta. Si è fatta sera, quando Zuleia riceve l'avviso dalla segretaria che deve partecipare ad una cena importante con un cliente. Quando giunge al ristorante, però, trova a Cana ad attenderla. Curiosa, gli chiede il motivo per cui sono lì, e lui le chiede di ascoltarlo per soli cinque minuti, consegnandole dei fogli che afferma essere veritieri, e così saprà tutta la verità. Zuleia, tuttavia, li lascia cadere a terra senza neanche guardarli, ribadendo che avrebbe voluto conoscere la verità quando si sono conosciuti, quando è entrato nei suoi affari e nella sua vita, e quando avevano deciso di sposarsi. Ora è troppo tardi, e lo esorta a non farsi più vedere. Il giorno seguente, Zuleia riceve un telegramma urgente dal postino. Lo apre con ansia, e lo legge con preoccupazione. Zuleia, dopo aver letto il telegramma, è visibilmente sconvolta, e ordina a Fadik di prepararle immediatamente un borsone per un viaggio che durerà circa due giorni. Nel frattempo, Betul si incontra con Kadir, e si lamenta per quanto le ha fatto Zuleia, ma lui la rimprovera per aver confessato tutto anziché di fidare di lei. Poi, le spiega che vorrebbe distruggere Zuleia, ma teme di inimicarsi a Khan. Pertanto, devono aspettare il momento opportuno per mettere in atto i loro piani. Betul gli risponde che, se davvero la amasse, dovrebbe opporsi a Khan immediatamente. Prima, però, deve decidere se vuole essere suo nemico, dopodiché potranno pianificare la loro vendetta. Shermin raggiunge Çolak nel suo ristorante, e gli comunica che lei e Betul si trasferiscono a Istanbul. Dopo che Zuleia ha umiliato Betul pubblicamente, quest'ultima non esce più di casa. Shermin rimprovera Çolak perché non la sta proteggendo, e sostiene che, se davvero è potente, dovrebbe opporsi a Zuleia e vendicare Betul. Poco dopo, Çolak, insieme a Shermin e alcuni dei suoi uomini, si presenta alla villa di Zuleia e grida il suo nome. Quando lei si avvicina, Çolak e i suoi uomini cominciano a sparare alle finestre. Poi, rivolgendosi a Zuleia, dichiara il suo amore per Betul, e afferma che nessuno può prendersi gioco di lei. In quel momento arriva Fikret, che lo affronta, e con un movimento repentino lo disarma e lo scaraventa a terra, immobilizzandolo. Nel frattempo, Rashid e Ghaffur riescono a bloccare gli uomini di Çolak. Successivamente, Fikret, stringendo il collo di Çolak, dice che dovrebbe ucciderlo, ma invece lo stordisce con il calcio della pistola, e ordina agli uomini di Çolak di portarlo via. Betul e Shermin hanno assistito alla scena, e una volta a casa, Betul è arrabbiata con sua madre per aver fomentato Çolak. Tuttavia, Shermin ribatte di essere andata da lui solo per chiedere se avesse intenzione di farla pagare a Zuleia per quello che le aveva fatto, e non immaginava la sua reazione. Aggiunge inoltre che è tutta colpa di Betul, che ha confessato a Zuleia ciò che aveva fatto. Intanto, Fikret dice a Lutfi che devono raddoppiare la sorveglianza per proteggere meglio i bambini, perché Çolak non è un uomo da imparare la lezione. Li raggiunge Zuleia, mostrando loro il telegramma, e annunciando che il loro amico detective Sadi è in gravi condizioni, e deve andare da lui. Fikret si offre di accompagnarla. Zuleia. Çolak si riprende, assistito dai suoi uomini, e Vaap gli propone di incendiare la villa quella stessa notte. Çolak, però, risponde che non si vendicherà, ammettendo che Fikret aveva ragione, considerando la presenza di bambini nella villa. Per questo motivo non ha reagito, e in colpa Shermin per averlo stressato e causato una reazione impulsiva. Zuleia e Fikret arrivano all'ospedale di Ankara, ma solo Zuleia viene ammessa nella stanza di Sadi. Qui, trova ad attenderla la signora Gungor, capo dei servizi segreti, la quale la informa che deve parlarle di Akangu Musoblu. Zuleia inizialmente rifiuta di ascoltarla, ma la signora Gungor rivela di essere a capo dell'agenzia di intelligence, e ha dei documenti da mostrare a Zuleia, e la persuade ad accompagnarla in agenzia. Una volta nell'ufficio della signora Gungor, Zuleia trova Akana ad attenderla, il quale le rivela di lavorare lì, e di non averle mentito. La signora Gungor le mostra dei documenti, che dimostrano che Akhan lavora per il governo, sotto l'identità di Mehmet Karat. Le rivela che, insieme a lui, ha svolto operazioni cruciali, arrestando molti criminali, e che non poteva rivelare la sua vera identità. Zuleia replica accusandolo di aver assaltato la sua villa e ucciso suo marito, ma la signora Gungor rivela che è stato il fratello di Akhan, Erkan, e se Akhan lo avesse saputo, lo avrebbe fermato. Zuleia, seccata, ribatte che ciò che conta è che Akhan si è andato a Ciocurova per vendicarsi di Demir, e gli dice che non vuole più vederlo. Zuleia riunisce alla villa il suo avvocato, Fikret, e Lutfie, informandoli che non vuole più lavorare con Akhan, per cui chiede a Fikret di sostituirla in azienda, e lui accetta. Zuleia chiede all'avvocato di occuparsi immediatamente della parte burocratica, in modo che lei possa lavorare senza incontrare Akhan. Più tardi, Lutfie riceve la notizia della morte del sindaco, e ne è profondamente addolorata. Il giorno seguente, quando Akhan arriva in azienda, trova Fikret seduto alla scrivania di Zuleia. Subito Akhan gli comunica che non venderà mai le sue azioni, ma Fikret gli chiarisce che non è lì per le azioni, bensì per rappresentare Zuleia, e che da quel momento lavorerà con lui. Akhan gli dice che non deve farsi illusioni, perché non conquisterà mai il cuore di Zuleia, ma Fikret ribatte che Zuleia non vuole nemmeno vedere la faccia di Akhan. Dopo il funerale del sindaco, Lutfie viene accompagnata in municipio, dove le comunicano che è stata scelta per fare le veci di sindaco fino alle prossime elezioni. Lutfie, commossa, ammette di non aspettarselo, ma promette di fare del suo meglio per svolgere il lavoro, con l'aiuto di tutti. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.